Ministro, l'Arezzo viene dalla sconfitta di San Giovanni, che settimana è stata? Glielo chiedo da un punto di vista personale e anche di gestione del gruppo, c'è stato anche un confronto con la società sia domenica che lunedì, come sono stati questi giorni? Beh, devo dire che sarà una settimana bella, bella perché un allenatore lo sa che venendo qua sapevo che molto probabilmente si verificava. È stato sicuramente come uomo il primo impatto andare sotto la curva e prendere tutto quello che uno ha preso è stato di carica, mi ha dato una carica perché mi ha detto guardate allo specchio, che potresti fare di diverso, che potresti fare con le tue idee? E mi hanno fatto capire ancora di più l'amore che provano per quella maglia, no? E perciò è una cosa che mi servirà tantissimo anche a me, ma mi ha dato come un ceffone, no? E mi ha detto dai, carichissimo a mille come sempre. Confronto con la società è stato ottimo perché ci siamo confrontati, e ci siamo detto quello che ci dovevamo dire. Quei ragazzi anche perché sono volontariosi e sono giocatori intelligenti, li ho visti stessa settimana, veramente carichi e pronti alla partita di domani. Però io quello che vorrei domani e che tutti noi vogliamo, anche i ragazzi vogliamo dimostrare che non siamo quelli del primo tempo, molli, ma siamo forse quelli che hanno reagito anche in modo non ordinato in campo dopo il gol subito. Vogliamo dimostrare che abbiamo il carattere, siamo tosti, che prima che ci eliminano, che ci dicono qualcosa, non vogliamo più andare sotto una curva e prenderci quelle cose. Grazie a tutti.